Allora, in quest'ora che ci manca, quello che vorrei fare è sicuramente dedicare tipo mezz'ora per fare un esempio insieme ben fatto, usando Bootstrap, e quindi vuol dire che in questa mezz'ora cerco un attimino di darvi degli spunti sulle tante slide che ancora sono, come dire, sarebbero da fare, no? Ma sono tante slide perché in realtà sono molto sbrodolate, ci sono molti esempi, concetti su quasi le stesse cose, e anche coprono dei casi particolari che in pratica si usano una volta nella vita, e non sono sicuramente cose molto complesse. Quindi diciamo che io cerco di soffermarmi sulle cose veramente essenziali, sulle cose veramente utili e pratiche, e poi casi particolari, eccetera, potete tenere le slide come riferimento, e invece di guardare sul sito potete guardare sulle slide, se volete un esempio in più, un riferimento in più. Però i concetti importanti cerco di darveli perché vorrei soprattutto riuscire a fare un bel esempio dove secondo me i concetti, quantomeno quelli che si usano poi più di comune, più comunemente, vengono poi fuori, piuttosto che ricordarsi la regoletta che tanto fra due giorni nessuno più si ricorda e che deve andare comunque a rivedere sulle slide. Questa è la filosofia di oggi. È la filosofia un po' del corso in realtà. Lunedì avremo un laboratorio su CSS, quindi potete poi sbattere la testa tutti insieme, anche insieme all'esercitatore, lunedì su CSS. Abbiamo detto che ci sono 200 proprietà con i loro valori possibili, che dipendono dalla proprietà, e che in un altro elemento particolare è il selettore. Allora, noi abbiamo visto già prima nell'esempio un selettore, che era quello H1, cioè un selettore che applicava una certa regola a un insieme, a un elemento specifico. Ma i selettori possono essere di cinque tipi. Ci può essere un selettore, questo è quello che abbiamo visto, ci può essere un selettore per classe. Quindi noi abbiamo una classe in HTML, in questo caso Bluetext, e in CSS se vogliamo applicare uno stile a quella classe, dobbiamo scrivere il nome della classe, Bluetext, con un punto davanti. Il punto indica questo è un selettore di classe, quindi senza punto elemento col punto di classe. Se invece di una classe, o in aggiunta in realtà una classe, abbiamo anche un ID e vogliamo, in questo caso title message, e vogliamo applicare uno stile solo a quell'ID, che ripeto deve essere univoco, possiamo sempre scrivere un selettore con il nome dell'ID anticipato dal simbolo del cancelletto. Quindi solo il nome dell'elemento si fa un selettore sull'elemento, col punto si fa un selettore sulle classi, applicate a qualunque elemento siano, e col cancelletto si fa un selettore sul ID del singolo elemento che avrà quell'ID all'interno della pagina HTML. Poi le proprietà si applicano ovviamente in maniera uguale per tutti. Quale sia la proprietà dipende da cosa volete ottenere con questa modifica del CSS. Se volete cambiare il colore, scriverete color uguale il nuovo colore da applicare. Poi ci sono selettori molto più complicati, che si usano tre volte nella vita probabilmente, che sono invece di selezionare l'elemento o la classe l'ID, permette di selezionare l'attributo. Quindi per esempio si può applicare un selettore che si applica a tutti gli elementi A, quindi a tutti i link, il cui attributo href inizia con HTTPS. Quindi cose molto molto specifiche, ma i selettori vi permettono anche di andare veramente a prendere un pezzettino sull'elemento, quindi non tutti gli A, non tutti gli A con un href valido, ma con tutti gli A con un href che ha una certa proprietà. Oppure tutti gli A con tutti gli elementi, non importa da che tipo, che è un titolo il cui titolo contenga la parola flower. Quindi se avete un titolo con flower lo prende, se avete un titolo con tree flowers lo prende, se avete un titolo con scritto prova non lo prende, perché non c'è un selettore su quell'attributo. Quindi si può anche selezionare per attributi e si può anche selezionare per pseudoclassi. Cosa sono le pseudoclassi? Le pseudoclassi sono degli stati possibili di eventuali elementi. Per esempio il link, quando cliccate, ha degli pseudoclassi. Quando è cliccato assume la pseudoclasse visited, perché voi avete già cliccato, l'utente ha già cliccato su quel link. Ha l'elemento hover quando voi mettete il mouse sopra, ha la pseudoclasse hover, è attiva anche quando state cliccando, eccetera, eccetera, eccetera. Questo si applica anche per esempio alle tabelle, alle righe della tabella. Quando mettete il mouse sopra c'è una pseudoclasse che HTML applica, che il browser applica, che si chiama hover, che appunto c'è qualcosa sopra la classe, sopra la riga. Quindi si può anche applicare un selettore, non solo agli attributi, non solo agli elementi, agli id e alle classi, ma anche a questi stati che gli elementi hanno. Per esempio se una cosa è visitata, se una cosa è hover. E poi le proprietà, di nuovo, sempre in base a quello che volete fare. I selettori si possono anche combinare, questi vari tipi di selettori, in maniera, in tutti i modi che vi possono probabilmente venire in mente e anche qualcun altro. Per esempio con la virgola vuol dire che quelle proprietà si applicano a tutti i selettori, al tutto il primo selettore, ma anche al secondo selettore, ma anche al terzo selettore, qualunque cosa sia. Con uno spazio vuol dire che il secondo selettore deve il risultato del secondo selettore, quindi la proprietà si applica al risultato del secondo selettore, solo se è dentro, è contenuto nested dentro l'altro selettore. Ma guardiamone sulla tabella che facciamo prima. Quindi div p, quindi con lo spazio, seleziona tutti p dentro a tutti div. Div maggiore di p, seleziona tutti p dove il padre, quindi solo il padre, non altri contenitori, ma solo il padre è un div. Div più p, seleziona tutti p che sono immediatamente dopo un div. Quindi c'è un div con dentro qualcosa, poi subito dopo c'è un p, allora quel p viene considerato. Quindi subito dopo. Se ci fosse un div, un a, e poi un table, e poi un p, quel p non verrebbe ovviamente considerato, perché non è subito dopo il div. p tilde u, seleziona tutti gli elementi ul che sono preceduti da un p. Non importa dove sia questo p, può anche essere 14 righe prima, ma a un certo punto, prima di un ul c'è un p, sì, allora applico queste regole. Quindi come vi dicevo, casi anche a volte molto particolari, tipicamente quelli che si usano sono classe id, element, e questi due, questi tre. Questi sono già più rari da utilizzare, però esistono. Allo stesso modo, col CSS potete modificare la display property di un oggetto, sappiamo che di default sono o display block o in line, ma voi potete cambiarle, se vi serve, rendere qualcosa in line invece di display block, e potete anche modificare, sempre attraverso la proprietà display, la visibilità dell'elemento con display none che nasconde l'elemento della pagina e toglie anche lo spazio all'interno della pagina di quell'elemento, oppure con la proprietà visibility hidden che nasconde l'elemento della pagina, ma lascia lo spazio. Quindi se l'elemento occupava 50 pixel, con display none ne occupa zero, come se non fosse mai esistito, come se aveste cancellato dall'HTML, con visibility hidden invece l'elemento continua a occupare 50 pixel, ma sono 50 pixel bianchi, vuoti, come se non ci fosse niente, come se ci fosse solo uno spazio grosso così. Quindi ha un affetto sul layout della pagina. Qui ci sono tutta una serie di pseudoclassi, di pseudoselettori, di pseudoclassi, come quelli che abbiamo visto prima, tipo link A, c'è anche, se volete, first child, se volete il primo figlio contenuto dentro un specifico elemento, oppure empty, ogni elemento P, in questo caso, che non ha figli, quindi un elemento P vuoto, nel caso in cui dovete fare qualcosa di particolare. E questi sono un elenco di selettori che si possano applicare, ma nessuno se li ricorda a memoria, ci si ricorda i 3 o 4 che si usano di più, e poi se c'è bisogno, sappiate che si può selezionare praticamente tutto in qualche modo, si riesce a selezionare tutto anche se in una posizione molto strana o a un attributo molto particolare. Basta solo trovare, andare a cercare qual è l'appseedoclasse o l'attributo giusto da utilizzare. Ripeto, nessuno se lo ricorda a memoria, tutti, perché sono talmente tanti e variegati che è impossibile. Questo sui selettori. Perché, vi ho detto, chiamiamo i CSS, perché i CSS si chiamano cascading, perché si possono mettere uno dentro l'altro, e che cosa vuol dire? che hanno anche un ordine di priorità, uno dentro l'altro, perché posso averlo nel testo e posso importarlo, possono essere messi a cascata, posso importarne anche 5. Qual è l'ordine nel caso in cui tutti e 5 vado a modificare body? Qual è il body che alla fine viene, qual è la proprietà che viene alla fine applicata? E si usa questa regola di proprietà. Quindi lo stile in line, quello che vi ho detto esiste, quindi style, due punti, aperte virgolette, esiste, ma dimenticatelo, è quello che ha proprietà massima. Quindi se c'è un elemento che ha lo style in line, viene applicato quello stile, indipendentemente da quello che chiunque altro, qualunque file CSS dica. Al secondo livello di priorità c'è lo stile interno, quindi se all'interno del file HTML scrivete style qualcosa, quindi se portate una porzione di CSS all'interno del file HTML, che è un'altra cosa da dimenticarsi. Poi ci sono i file esterni, quelli che si importano col CSS, che vengono ovviamente messi in priorità, e infine c'è col default del browser, che quindi viene sovrascritto da chiunque altro. Quindi se c'è un file esterno, quello esterno sovrascrive il browser. Se c'è uno stile interno al file HTML, quindi scritto dentro al file HTML, questo sovrascrive quello esterno, la proprietà, ovviamente in conflitto, viene sovrascritta. Se c'è uno stile in line, questo stile in line sovrascrive eventuali proprietà in conflitto di tutto. Dove in conflitto vuol dire che se avete detto qui, nell'external style, che body deve essere verde, e qui scrivete che body deve essere rosso, ovviamente body sarà rosso, non sarà verde, perché questo sovrascrive la proprietà comune. Se qui avesse scritto che P deve essere giallo, ovviamente P rimarrà giallo, perché questo non lo sovrascrive, perché se lo sovrascrive solo body. Cosa vuol dire un file esterno? Beh, vuol dire che c'è un file esterno, che chiamate qualcosa.css, con dentro tutte e solo le proprietà che volete riportare, che nel led importate in questo modo. Quindi col tag link, rel style sheet, se volete anche type, text, css, in realtà questo è in pratica non utilizzato, perché oggigiorno gli style sheet possono essere solo di tipo css, ma quindi è ridondante questa informazione. E poi href, come quello che si usa per il link, che dice dov'è il file. Se fosse su internet potrebbe anche avere http, qualcosa, eccetera, style.css vuol dire che è allo stesso livello del file html, nella stessa cartella, nella stessa folder del file html a cui è stato importato. E applica questo body tutto quello che viene definito nel suo file css importato. Interno vuol dire che invece di scrivere nel led link, si scrive style, e a questo punto sì, type text css è corretto utilizzarlo e si riportano lì all'interno del file html le istruzioni, le regole css, questo non è raccomandato, quindi dimenticatevelo, esiste ma non fatelo. Questo ben che meno, ancora peggio, può andare bene per motivi di debug, ma non consegnate un progetto, per esempio con l'esame, con uno stile in linea, lo stile va nel file esterno, punto. Se dovete sperimentare va bene, ma poi toglietelo. Quindi, anche questo esiste, sappiate che esiste, ma fate finta che non esista. Inoltre, per rafforzare queste priorità, le singole regole possono anche essere messe come importanti. Quindi a fianco della regola, della specifica proprietà, color red, non importa se poi qui c'è scritto altro sotto, color red important vuol dire che cerca di applicare questo important in ogni caso comunque. Questo color red comunque cerca di applicarlo comunque. Anche, vedete, important style anche in confronto all'inline style. Quindi se c'è questo da qualche parte, cerca di applicarlo lo stesso. E qui c'è un grafico che può aiutare, se volete, a ricordare, se volete, potete stamparlo anche dal sito, salvarlo da qualche parte, che può aiutare a ricordare le varie, ordinamento, le varie proprietà delle varie cose. Per cui il, vedete, gli esterni sono sovrascritti da quelli in line, che sono sovrascritti, sì, se lo scrivete, mettete important, in alcuni casi, sono riusciti a sovrascrivere lo stile in line. Certo. Ci dovrebbe essere anche scritto qui da qualche parte. Important keyword in inline style has higher priority than the same keyword in style sheet. Quindi, non proprio così, quindi non è che uno stile in line viene sovrascritto da qualunque important keyword messo in qualunque punto, ma se c'è un important keyword, e ovviamente questa assume una proprietà più alta rispetto anche all'inline. Quindi uno style sheet con important assume una proprietà più alta di un inline style senza important. Ovviamente un inline style con l'important risale di priorità. Quindi con important riuscite a sovrascrivere lo stile in line se lo stile in line non ha la proprietà important. E così via. Sì. E qui ci sono altri esempi. Ah, ecco. E all'interno di uno, di un elemento, questo può essere interessante, all'interno di una dichiarazione, se voi scrivete color red, color blu, che tipicamente non scrivete perché, però può capitare, un errore ho dimenticato che c'era, l'ho riscritto, viene solo applicato l'ultimo che viene definito all'interno della proprietà. Quindi se c'è all'interno di una regola colore giallo, colore rosso e colore blu, viene presa la seconda, sempre la seconda che viene applicata. sia se è all'interno della stessa regola, con o senza capo, sia se nello stesso file avete due P, color red e color blu. Viene sempre applicata la seconda all'interno del file. E poi c'è il concetto di specificità che abbiamo già visto. Perché ovviamente la specificità sull'ID ha priorità sulla specificità sulla classe che ha priorità sulla specificità sull'elemento. Perché l'ID può essere univoco, quindi per forza identifica un qualcosa, quindi uno potrebbe dire tutti gli oggetti di tipo P sono verdi, ma gli oggetti che hanno la classe prova sono blu e quindi anche gli oggetti di tipo P con la classe prova diventeranno blu e poi gli oggetti che hanno l'oggetto, l'elemento che ha ID, ciao, sarà arancione. E non importa se questo ID ha anche una classe che è prova ed è anche di tipo P, perché comunque quello è molto specifico come attributo. Quindi ID vince su classe che vince su elemento generico, perché è più specifico. In tutto questo, voi ricorderete che a un certo punto quando abbiamo selezionato qui con ispezione elemento, torniamo qua, vedete che il body ci ha fatto vedere questo blu e intorno c'è quest'area arancione. E se guardiamo anche altro vediamo la stessa cosa, per esempio qui sulla tabella vedete che è blu, poi c'è un'area arancione a lato. Vediamo se c'è anche peraltro. Ecco il P, per esempio, ha un'area blu e poi ha due barre arancioni sopra e sotto, non ha niente a lato. Perché? Cosa sono queste barre? Queste barre rappresentano il modello tipico di CSS che si chiama Box Model che dice che ogni elemento è in una scatola. È in una scatola rettangolare o quadrata, insomma una scatola. e ha tre, quattro proprietà, quattro elementi, quattro parti questa scatola. C'è il contenuto dell'elemento, la tabella, il testo, l'immagine, il link, quello che è. C'è un bordo che è un bordo, immaginate il bordo di un oggetto e che può anche essere evidenziato con un colore, quindi volete un elemento rettangolare con scritto ciao e poi c'è un bordo nero o un bordo tratteggiato intorno all'elemento che può avere anche una grandezza, può essere di 0 pixel, quindi non essere visibile, può essere di 5 pixel, di 50 pixel, che sarà poi il bordo che voi potreste immaginare di disegnare con una penna intorno a un oggetto rettangolare. E poi ci sono altri due elementi. Uno è il margine. Il margine è uno spazio, un'area vuota che è al di fuori del bordo. Quindi c'è il contenuto, c'è il bordo e poi c'è il margine che è al di fuori di questa scatola e tipicamente si usa per separare o per distanziare un elemento dall'alto. Io aumento il margine, quindi il margine tra i due elementi, lo spazio tra i due elementi aumenta o in orizzontale o in verticale. Il margine è completamente trasparente, non si può applicare colore, è giusto spazio, spazio vuoto al di fuori di questa scatola. Dopodiché c'è anche uno spazio all'interno della scatola, quindi all'interno del bordo che si chiama padding. Quindi aggiunge dello spazio tra il contenuto e il bordo. Quindi come se volesse distanziare un po' il bordo dal suo contenuto. Quindi di nuovo spazio che però questa volta ha come è influenzato dall'eventuale colore di sfondo applicato all'elemento, perché è all'interno dell'elemento. Quindi diciamo così, c'è il bordo che è un bordo tradizionale. Dentro il bordo c'è un padding che è uno spazio interno all'elemento. Se volete, magari avete un testo troppo attaccato al bordo, allora volete allontanarlo un po', mettere un po' di spazio tra il contenuto vero e proprio e il bordo. Ed è un, magari perché avete uno sfondo, un colore di sfondo e non volete, volete farlo vedere un po' questo colore di sfondo e quindi potete agire sul padding, aumentarlo, diminuirlo. E poi al di fuori della scatola, al di fuori del bordo c'è il margine che invece non è influenzato da nessun colore di sfondo ma è solo serve per creare spazio tra le varie scatole. E tutti questi elementi possono essere proprietà, possono essere modificate totalmente oppure solo sopra, solo sotto, solo a destra o solo a sinistra. E ogni combinazione di questi quattro. Quindi potete avere un margine superiore e inferiore impostato ma zero margine e lati e potete avere un padding magari sulle lati e non sopra e sotto. Quindi totale libertà di fare queste cose. E la lunghezza, l'ampiezza massima dell'elemento, di ogni elemento a questo punto sarà la larghezza del suo contenuto più la larghezza del suo padding, questo che è evidenziato in violetto da entrambi i lati, più la grandezza del bordo, se il bordo ha una certa grandezza da entrambi i lati, più la grandezza dell'eventuale margine. Stessa cosa per l'altro lato. Questo per dire ogni elemento e nei browser lo vedete, questo è il box model. Quando voi selezionate un elemento, qualunque questo sia, anche forse tutto HTML, vi fa vedere la grandezza dell'elemento, vi fa gradere qual è il padding, in questo caso prendiamo main, vi fa vedere la grandezza, no, prendiamo P, vi fa gradere la grandezza dell'elemento, eccolo qua, in questo caso 605 pixel per 18,5, spero 18,5, vi fa vedere qual è il padding, è vero evidenzia se c'è, in questo caso non evidenzia niente perché non c'è padding, vi fa vedere qual è il bordo, in questo caso non c'è bordo, bordo zero, trasparente, e vi fa vedere qual è il margine, in questo caso c'è un margine di 16 pixel di default dato dal browser, dallo stile del browser, sopra e sotto, vedete che le barre ci sono solo sopra e sotto e non ci sono destra e sinistra, quindi questo vale per tutti gli elementi e il browser vi dà anche un aiuto visivo per capire questo, questo si chiama box model, il modello a scatola. Ora, noi abbiamo visto come dare uno stile a tutti questi elementi, cambiamo il colore, cambiamo lo sfondo, possiamo modificare il margine, il padding, ma non abbiamo ancora visto come darci a dare del layout, perché per ora abbiamo tutti gli elementi uno sotto l'altro oppure uno a fianco all'altro se il display style è inline. Allora, in CSS ci sono quattro schemi di posizionamento principali, c'è quello normale, che è quello che ha il browser, come abbiamo visto finora, c'è quello relativo, che si possono indicare con un, appunto, position, con una proprietà che si chiama posizione, position, ed è appunto quella statica e quella tradizionale, statica, quindi di default. poi c'è quella relativa, che è quello che dice che un elemento, un elemento HTML, ha una posizione relativa rispetto a un altro elemento, quindi in questo caso possiamo dire che questo secondo elemento ha una posizione relativa, quindi position relative, left 20 pixel, top 20 pixel, quindi vuol dire che questo elemento, invece di essere messo qui, insieme agli altri, come in questo caso statico, sarà spostato di 20 pixel verso la sinistra e di 20 pixel verso il basso, quindi il margine, se volete, il margine sinistro e il margine destro sono di 20 pixel e quindi si sposterà tutto di 20 pixel in basso e a destra, quindi è relativo a un certo punto. È assoluto, stessa cosa, ma invece di essere relativo a, per esempio, al contenitore, che è il contenitore, quindi a questo, è assoluto rispetto alla finestra del browser. Quindi, con position absolute, left 20, top 20, metteremo un elemento, qualunque elemento a cui si applichi questa, questa, il selettore di classe, in una posizione assoluta rispetto alla finestra del browser, dove 20 pixel dall'alto e 20 pixel a sinistra, sempre lì, e sarà posizionato in maniera assoluta lì, indipendentemente da quello che ci sarà già visualizzato nel resto della pagina. E infine, c'è anche un posizionamento fisso che funziona come l'assoluto, ma con la differenza che questo non è solo assoluto, messo in maniera assoluta a 20 pixel dall'angolo in alto a sinistra del browser, della finestra dello spazio in cui il browser visualizza la pagina, ma è anche messo lì in maniera fissa. Cosa vuol dire? Vuol dire che se voi scrollate la pagina, quello è messo lì e rimane incollato lì. quindi lo continuerete a vedere. Quindi diciamo così, fixed vuol dire che l'elemento è messo qui e se voi scrollate continuerà a essere messo lì. Lo continuerete a vedere sempre, anche se è una pagina molto molto lunga, è arrivata in fondo della pagina, l'elemento ci sarà. Absolute vuol dire che se l'elemento è lì, man mano che scrollate questo elemento si sposterà verso l'alto fino a sparire perché è messo in maniera assoluta e non è fissa rispetto alla vista diciamo. La differenza ecco diciamo così è questa assoluta è rispetto all'attuale pagina quindi quando muovete la pagina quello si muove fissa e invece messa rispetto alla viewport quindi a quello che vedete. Quindi è sempre lì deve essere sempre lì anche se la vista cambia quello rimane lì. Sì, relative vuol dire che rispetto a un certo elemento rispetto a questo elemento allora questo facciamo così questo ha un elemento static quindi è messo 20 pixel questi hanno ovviamente un contenitore ovviamente sarà un div diciamo questo è messo 20 pixel sinistra e sopra rispetto al div e sono tutti messi così comportamento normale questo è messo scusate questo è messo esattamente nel div quindi 0,0 quindi qui immaginate avere un div così questo non è messo a 0,0 questo è messo a 20 pixel in basso e 20 pixel a destra rispetto a dove dovrebbe essere lui dovrebbe essere qui ma invece è messo 20 pixel a destra e in basso è relativo a un certo punto relativo alla sua posizione dove dovrebbe essere normalmente e questo serve per serve ogni tanto soprattutto fixed e absolute si usano gli altri un po' meno oggigiorno per posizionare elementi all'interno di una pagina HTML un'altra proprietà che gli elementi hanno per il posizionamento è lo z-index lo z-index indica l'ordine diciamo così in 3D di un elemento quindi se un elemento deve essere messo davanti dietro o a fianco un elemento questo può aver senso questo ha senso per esempio con gli elementi che hanno tipi di posizionamento diverso assoluto e relativo è una cosa che ogni tanto si usa perché magari se un elemento posizionamento normale è un elemento posizionamento assoluto un elemento posizionamento relativo può capitare che questi elementi a un certo punto siano sovrapposti nella pagina e allora se sono sovrapposti qual è che deve essere davanti all'alto allora quello che chi deve essere davanti all'altro lo si definisce con una proprietà che si chiama z-index per cui la finestra del browser tutti gli elementi hanno z-index 0 di default se lo volete mettere davanti un qualcosa aumentate lo z-index 2, 3, 5 se volete metterlo dietro la fine lo stato normale mettete un z-index invece è negativo questo si usa soprattutto ripeto quando ci sono elementi con qualche tipo di posizionamento per esempio assoluto o fissato che però devono stare davanti o dietro al resto del contenuto della pagina in un certo momento e quindi si cambia appunto l'ordine dello stack come se fosse in 3D rispetto all'elemento quindi si decide quale deve stare davanti e quale deve stare dietro in un certo rispetto a qualche altro elemento attraverso la proprietà z-index 2 punti 1 numero inoltre se volete anche mettere degli elementi in maniera libera quindi non incastrati all'interno di questo box model per cui c'è un elemento poi sotto c'è un altro oppure un elemento poi a fianco c'è un altro se la display è in line si può anche utilizzare la proprietà float che dà controllo sul posizionamento orizzontale da controllo libero quasi libero sul posizionamento orizzontale di un elemento quindi voi potete avere un elemento che allineate a sinistra e quindi dite float left volete allineare a destra quell'elemento potete mettere float right volete metterlo al centro non esiste un float center ma potete impostare margin 0 auto in questo modo lui lo mette esattamente al centro dove 0 è i primi due le pixel dei primi due delle due proprietà o tutte queste proprietà che hanno margin che ne ha quattro quindi per esempio margin ha un top ha un valore bottom ha un valore right e ha un valore left voi potete scrivere margin 5 4 5 5 questo vuol dire che 5 è top 4 è right 5 è bottom 5 è left quindi questi si leggono in senso orario quindi 5 4 5 vuol dire che ha plegato un margine di 5 sopra un margine di 4 a sinistra un margine di 5 sotto e un margine di 5 a sinistra questa è la destra ovviamente quindi si applicano in senso orario top right bottom left quando ce n'è più di uno quando ce ne sono due il primo si applica prima di due e l'altro si applica a tutti gli altri e se ce ne sono tre ovviamente quelli che sono istanziati sono quelli che si applicano e quelli che sono l'ultimo si applica a quello che avanza e se ce ne è uno si applica in maniera uguale se scrivete solo m uguale 5 margine uguale 5 si applica tutti insieme il float viene spesso usato per spostare immagini all'interno di un layout per cui invece di avere l'immagine in un certo punto nel testo centrale a un certo punto voglio metterla centrata voglio metterla a destra o a sinistra e quindi posso usare questa proprietà per sganciarla in un certo senso dal contenitore finché ovviamente fino quanto a destra fino a destra dell'elemento che lo contiene o al centro dell'elemento che lo contiene quindi se qui poi abbiamo un altro elemento e la pagina web è tutta questa ovviamente questo è a destra dell'elemento che lo contiene non a destra dell'intera pagina se la pagina ha altri elementi se la pagina ha un unico elemento grosso in cui mette tutto a write ovviamente quello va in fondo alla pagina nel caso in cui si voglia si usano i flott si sta facendo un layout tutto il flott e a un certo punto si vuole avere un flott che occupi tutto lo spazio quindi si vuole cancellare in un certo senso annullare il posizionamento di flott si può usare questa proprietà clear e in cui appunto cancella questo questo flott quindi come forzando un box o quello del box model al comportamento di default che avrebbe all'interno della pagina quindi senza applicare nessun tipo di operazione di flott quindi ritornare all'elemento stack o uno dopo l'altro che abbiamo di default in html con i flott se uno vuole può anche costruire dei layout per cui con l'ordinamento che per esempio abbiamo simile a quello che abbiamo noi noi avevamo l'header poi avevamo la sidebar poi avevamo il contenuto principale poi avevamo il footer uno potrebbe decidere di spostare le cose usando flott left flott right per esempio in questo modo quindi il primo elemento che è il contenuto lo mettiamo come flott right quindi diciamo stai a destra e poi il secondo elemento che è la navigazione diciamo stai a sinistra e poi se vogliamo un footer che è in basso possiamo dire clear e quindi ritorna nel comportamento normale rispetto ai flott se tutto questo è dentro un elemento ovviamente di tipo floating definito come flott questo wrapper questo si può fare anche su due colonne c'è anche un esempio pratico che potete provare si può fare anche su tre colonne se volete in cui bisogna fare attenzione sempre a mettere appunto a rifare la stessa cosa main nav avrà flott left content avrà flott right e poi main content all'interno di content avrà flott left e secondary content avrà flott right non ci perde tanto tempo su questo floating soprattutto per il layout perché oggi giorno praticamente diciamo così oggi giorno quasi tutti o tutti non costruiscono layout a mano ma usano dei framework che già come faremo noi tra l'altro che già forniscono layout per fare le cose quindi floating può essere utile se si vuole spostare un elemento specifico più che fare un layout intero della pagina se proprio uno vuole fare un layout intero della pagina quello che può usare è queste due cose che andiamo a vedere adesso di nuovo velocemente grid e flex che sono due modalità nuove di CSS per cui fare layout quindi grid lo dice il nome cosa fa grid grid è una struttura CSS che vi dà una griglia in cui andare a posizionare gli elementi come volete voi quindi per esempio qui questa è una griglia che sta su due colonne quindi questa è una griglia di tre righe e quattro colonne di cui il primo elemento sta su due colonne questi elementi invece stanno tutti su una singola colonna anche questo sta su due colonne mentre questi invece occupano di nuovo una colonna ciascuna ci sono tre modi per definire una griglia come esplicita o come naturale se hanno una struttura di una griglia naturale tipo la tabella per esempio la tabella è già una griglia di suo ma questo layout avanzato si chiama appunto grid e permette di costruire per esempio i layout classici come quello che stiamo vedendo in cui la prima cella rimarrà vuota poi ci sarà l'header poi ci sarà la seconda cella la terza cella vuota poi ci sarà la barra laterale il contenuto un'eventuale barra destra in questo caso questa che rimane vuota questa che rimane vuota e questo il footer e quindi vedete come si definisce si definisce un nuovo tipo di display che non è più display block o display in line o display none ma display grid e a quel punto si specifica come è strutturata questa griglia in termini di colonne con grid columns e in termini di righe con grid row e a quel punto si dice ogni elemento sta in una specifica colonna e in una specifica riga quindi section header sta nella riga 1 contando da 1 nella colonna 2 perché la colonna 1 non ci interessa rimane vuota grid aggiunge una nuova proprietà una nuova unità che si chiama fr che sta per fraction value che sta per frazione che indica praticamente tutto lo spazio in questo caso guardiamo in questo caso 50 un fr 50 pixel vuol dire che lui prende 50 pixel prende 50 pixel e tutto il resto dello spazio viene preso da questa unica frazione se noi avessimo scritto se noi qui dentro avessimo voluto dividerlo ancora in un altro pezzo e questo qui avremmo potuto scrivere 1fr e qui sotto avremmo potuto scrivere 1fr e questo spazio intero sarebbe stato diviso in una frazione in due frazioni in mezzo e mezzo in un mezzo in un mezzo e se noi volevamo questo più piccolo dov'è se noi volevamo dividere questa in magari questa parte quindi questo che sia metà di questo ovviamente quindi dividere questo un quarto e questo tre quarti per esempio o una cosa del genere potevamo mettere e fatemi fare così questo un terzo e questo due terzi potevamo scrivere 1fr qui e 2fr qui quindi quindi cosa faceva fr prendeva tutto lo spazio e lo divideva in tre parti perché 2 più 1 fa 3 e 1 un terzo lo riservava a questo pezzo e gli altri due terzi lo riservava a questo ovviamente questo è solo per farvi capire fr e poi qui non si poteva fare perché bisognava avere molti più facendolo così ottenevamo anche molti più righe rispetto a quello che abbiamo ottenuto e questa fr è un'unità che si può usare solo sulle grid al momento non esiste da altre parti quindi se non usate grid non usate fr perché non si può non è riconosciuta e questa è essenzialmente la griglia è una griglia che potete riempire con grid column grid rows e poi riempire le celle dicendo in quale colonna in quale riga stanno in un modo di puzzle infine l'altro elemento sono le flex questo è molto molto nuovo molto molto potente e viene usato per esempio da bootstrap che è il framework CSS che utilizzeremo ed è un modo alternativo per definire l'apparenza di una pagina web perché dà pieno controllo su praticamente tutto quello che può avvenire dentro una pagina l'allineamento degli elementi la direzione in cui questo allineamento viene fatto l'ordinamento la grandezza dei vari box dei vari elementi anche rispetto uno con l'altro eccetera quindi per esempio si può allineare una serie di elementi a destra a sinistra si può dire ok questo allineamento va fatto in orizzontale in verticale e questi elementi vanno ben spaziati nello spazio che hanno a disposizione oppure messi vicini oppure questo elemento deve essere questo elemento deve essere due volte gli altri due elementi che lo seguono oppure questi elementi devono avere tutti lo stesso spazio e devono dare adattarsi alla grandezza del contenitore o della pagina dipende dove è collocato e così via quindi molto molto potente questo Flex molto flessibile fa un sacco di cose che senza o è molto difficile da fare o è molto difficile o è impossibile addirittura fare in HTML Flex ha definito due tipi di box il container e gli item che sono contenuti nel container e ogni elemento che è un figlio del container è ovviamente un Flex item quindi rendita una certa serie di proprietà che si possono applicare quali sono queste proprietà allora alcune proprietà si applicano a container altre si applicano agli item per esempio se noi abbiamo un container che abbiamo impostato come Flex quindi con Display Flex non con Display Grid non con Display Inline o Block ma con Display Flex possiamo applicare per esempio Justify Content che è una proprietà che definisce l'allineamento orizzontale degli elementi quindi possiamo dire Justify Content tutti all'inizio tutti alla fine tutti centrati senza andare a giocare con margini con margini eccetera semplicemente così li vogliamo centrati ma li vogliamo anche con uno spazio equidistanti l'uno dall'altro e dai margini benissimo possiamo usare Space Around li vogliamo tutti equidistanti uno dall'altro ma non ci interessa cosa avviene fuori Space Between quindi molte opzioni di layout e di posizionamento e anche di wrapping ho cinque elementi non ci stanno nella pagina non mi interessa voglio che vadano avanti perché voglio che siano tipo un carosello quindi a un certo punto io scrollo e questi tornano nella pagina oppure voglio che vadano a capo quindi quando arrivo alla fine della dimensione del blocco o alla fine della pagina ecco che con Flex Wrap vanno a capo ovviamente questi si possono anche unire rispetto al justify content di prima stessa cosa non solo per l'allenamento orizzontale ma anche per l'allenamento verticale justify content applica quelle regole e orizzontalmente align items applica quelle stesse diciamo regole simili verticalmente e questo questa cosa qua il fatto di avere un qualcosa che sia centrato orizzontalmente e centrato verticalmente come in questo caso per cui è centrato all'interno della pagina è una cosa che senza Flex è incredibilmente difficile da ottenere con tutta una serie di trucchetti di cosine che bisogna applicare invece con Flex vedete con due righe abbiamo un allenamento centrale sia orizzontalmente che verticalmente quindi molto apprezzato Flex molto utilizzato proprio perché anche aiuta a risolvere problemi che invece in CSS prima esistevano stessa cosa possiamo definire qual è la direzione se a riga o a colonna di default è a riga e anche gli elementi quindi figli di questo container possono avere delle proprietà per esempio Equal Flex come vi dicevo prima hanno tutti la stessa grandezza An Equal Flex è possibile specificare che magari un elemento deve essere il doppio di tutti gli altri e loro si adattano di conseguenza e qui c'è un esempio in cui questi elementi hanno Flex 1 ma cioè tutti gli elementi hanno Flex 1 ma un certo elemento con una certa classe ha Flex 2 e quindi deve essere il doppio degli altri e allora Flex come container adatta applica a footer item Flex 1 e a questo footer 3 che è quest'altra classe applica Flex 2 e quindi lui lo ridisegna in maniera corretta in modo da occupare tutto lo spazio anche se ha solo elementi e uno spazio per quattro elementi se preoccuparlo tutto gli elementi di Flex non si possono raggruppare non c'è un elemento specifico per raggruppare all'interno di Flex ma si può usare il div per raggrupparlo e a quel punto il div diventa un elemento di Flex a volte quindi si può applicare le stesse regole che abbiamo visto finora non a singolo elemento ma al div che contiene che raggruppa gli elementi i Flex item che ci interessa modificare in qualche modo quindi ecco che di nuovo qui il div rientra come un elemento non semantico che si può utilizzare per dare uno stile specifico senza aggiungere una semantica perché in realtà ci interessa solo per magari raggruppare elementi che hanno una loro semantica nel loro significato qui c'è un riassunto di quelle proprietà che abbiamo visto prima tra cui appunto questo Flex è quello che permette di creare queste scatole questi item che possono allargarsi ristringersi a piacere e un po' di reference per appunto i Flexbox e ripeto tutte queste cose tipicamente non si scrivono nella pratica non si scrivono a mano ma si usano secondo dei framework che vengono che si decidono di utilizzare che a sua volta useranno queste cose usano Flex usano Grid usano quindi è bene sapere che esistono perché a un certo punto uno magari può manipolare qualcosa deve decidere come modificare qualcosa che il framework fa e lo può modificare solo se sa che cos'è un Flex e poi c'è infine il concetto di Responsive Design e quindi una progettazione di interfacce grafiche che sia adatti alle diverse risoluzioni degli schermi quindi a mobile a tablet a desktop con diverse appunto con diverse risoluzioni con diversi con diverse risoluzioni magari con diversi layout perché magari qui voglio avere una cosa due colonne e invece qui non voglio avere due colonne questa colonna questa colonna qui magari nel mobile la voglio collassata dentro un bottone per esempio e invece quest'area qui la voglio vedere tutta grossa qui quindi anche cambiamenti di layout non solo di scalamento di risoluzione CSS3 abilita queste cose questo design responsivo e di nuovo Bootstrap ci pensa lui per la maggiore a fare queste cose però di nuovo come le fa le fa con quello che si chiamano media query cioè regole come prima la regola CSS che però è innestata all'interno di una media query che inizia con chioccia la media e poi ha una certa proprietà cioè in quale circostanza praticamente è un condizionale è un if se la dimensione minima del display è 900 pixel metti a rosso quel colore ora ovviamente se la dimensione minima è più piccola se la dimensione dello schermo è 900 pixel lo metterò a rosso quindi qui lo metterò a rosso qui magari lo metterò a rosso ma qui la dimensione sarà 500 pixel e allora qui il testo non sarà di colore rosso è un modo condizionale di applicare la regola come se avessero scritto se min width è maggiore di 900 then p color red se è minore niente questa regola non si applica quindi un modo per applicare regole in maniera condizionale e anche di conseguenza spostare nascondere se si volessero certi elementi con magari display header ok tutto questo ci viene dato quasi gratis dai framework che usano queste tecnologie standard tipo bootstrap che è il framework che useremo noi che è un framework sviluppato da twitter e noi useremo la versione 4.6 occhio che sulla home page c'è la versione 5 in maniera prominente ma la versione 5 è in beta quindi diciamo che magari non usiamo una cosa che fra un mese potrebbe cambiare la versione 4.6 è l'ultima versione stabile bisogna solo andare a cercarla cliccare sulla home page dove è scritto 4.6 o usare questo link diretto bootstrap è un framework molto usato secondo alcuni fin troppo usato per le pagine web per cui tutte le pagine web alla fine si assomigliano ma è molto pratico molto comodo rispetta un sacco di best practice usa flex internamente spesso e volentieri e quindi è molto comodo per il corso ma anche per sviluppare qualcosa di prototipale o quantomeno per iniziare col CSS ripeto quasi nessuno scrive CSS di un'applicazione web da zero completamente da zero un qualche tipo di framework un qualche tipo di supporto quasi sempre viene utilizzato o magari qualcuno si è scritto un framework CSS quindi usa quello per tutti i siti che fa ma non è che ogni applicazione web uno crea un nuovo foglio di stile CSS e allora Bootstrap ha una filosofia responsive mobile first ha una serie di componenti addizionali che possono essere molto utili ed è basato sulle classi CSS quindi per applicare uno stile di Bootstrap si applica una classi CSS a un certo elemento e vabbè qui poi racconta come utilizzarlo e che adesso lo vediamo in un esempio e la la struttura cosa bisogna fare che bisogna incollare questa roba che c'è sul sito tra l'altro e e due concetti principali che di nuovo vediamo che in Bootstrap ogni elemento è rinchiuso all'interno di un container all'interno di un container ci deve essere una un elemento che ha classe raw riga e poi all'interno della riga possono esserci delle colonne quindi c'è un container che deve avere classe container ci possono essere delle righe che rappresentano le righe del container che hanno classe raw e queste righe possono essere divise in colonne ogni riga è divisa potenzialmente in 12 colonne e voi potete scegliere se avere all'interno di una riga due colonne da 6 tre colonne da 4 una colonna da 1 una colonna da 6 una colonna da 2 l'altra quella che avanza quindi vi dà questa possibilità o una colonna unica da 12 vi dà questa possibilità di scegliere dove quanto spazio volete usare a livello di colonne per mettere i vostri elementi quindi potete avere noi potremmo avere come detto prima una side in una colonna da 3 e il main a fianco in questo caso davvero a fianco in una colonna da 9 perché 9 più 3 fa 12 e così via e qui ci sono un po' di esempi ma sono essenzialmente presi dal sito e quindi lo useremo adesso in questo esempio poi voi sicuramente nel laboratorio e ha una serie anche di componenti già fatti per esempio i bottoni ha dei bottoni già con tutti i colori quindi se volete un bottone rosso ve lo dà già fatto volete un bottone giallo ve lo dà già fatto e quindi potete usare tutta una serie di cose tutta una serie di ha una navbar se vi serve una navbar per la navigazione ha una navbar che si può applicare al sito e utilizzare esiste senza troppi problemi e così via questo adesso andiamo a vederlo in un esercizio in un esempio continuando il nostro esempio di prima quindi fatemi tornare qua e facciamo una cosa prima di passare a Bootstrap creiamo un file che chiamiamo style.css giusto per provare ad applicare il css e lo importiamo lo importiamo nel head quindi link rel uguale stylesheet e a quel punto href abbiamo detto uguale style.css così importiamo il nostro css cosa facciamo fare al nostro css boh facciamogli fare che è body così vediamo anche una definizione è body e facciamo background color vedete Visual Studio Code vi suggerisce una serie di colori che si possono utilizzare per esempio mettiamo un colore tenue di sfondo se noi salviamo e aggiorniamo vedete che adesso lo sfondo di tutta la pagina è diventata questo azzurrino perché questo si applica a body se noi vogliamo dire per esempio che è a p oppure anzi definiamo una classe qui chiamiamola class sidebar se noi vogliamo dire che tutto quello che è una classe sidebar avrà un background color boh questo qui e noi aggiorniamo vediamo che il P in quel caso il P che è dentro la side ha come colore di background questo verde quindi sovrascrive come abbiamo visto il colore di background del body che invece viene applicato tutto il resto perché è più specifico ok quindi fatemi fare una copia di questo file e chiamiamolo index2 adesso chiamiamolo style chiamiamolo style va bene poi in index2 fatemi creare un altro file che chiamiamo custom.css così lo possiamo usare se ci serve e a index2 importiamo questo custom.css e qui ovviamente apriamo index2 e riaggiungiamo lo zoom ok e magari togliamo la sidebar così abbiamo un po' meno roba da fare ok quindi aggiorniamo anche questo che non ha più la sidebar allora cosa facciamo apriamo bootstrap get bootstrap anche qui bootstrap ha tantissime cose bootstrap che nessuno ricorda a memoria anche perché cambiano da una versione all'altra di bootstrap ma c'è il sito che è il vostro amico ha anche tanti esempi anche tante porzioni di cose che è già fatto quindi si può anche facilmente copiare e incollare all'interno partiamo da dalla documentazione della 4.6 non ci interessa la 5 che vi dice proprio vedete come fare come faccio importare bootstrap beh copia e incolla questa riga nel tuo head quindi copia va bene anche mdbootstrap non so cosa sia mdbootstrap suppongo non so cosa sia mdbootstrap noi usiamo bootstrap vi suggeriamo di usare bootstrap nel nel laboratorio di lunedì poi ovviamente voi usate quello che per l'esame potete usare quello che volete ma noi per il laboratorio vi chiediamo usare bootstrap perché a un certo punto quando metteremo quando ci sarà react c'è la versione react di bootstrap quindi questo stesso bootstrap ma ha componenti react come modulo di react che quindi facilita molto l'implementazione però poi per l'esame potete usare qualunque framework css javascript qualunque framework css vogliate non necessariamente bootstrap però ai fini del corso usiamo bootstrap come esempio e nei laboratori deve essere responsi del progetto d'esame dipende da le specifiche quello dipende da le specifiche tipicamente no non è richiesto quindi importiamo questo link che è esattamente un link come prima dove aggiunge questa parte di integrità perché ovviamente un link preso da internet per motivi di sicurezza fanno questo controllo sull'integrità del file in modo che non siamo malevoli quindi abbiamo solo al momento aggiunto questo proviamo a aggiornare la pagina vedete che già fatemi tornare indietro un po' di zoom perché è andato troppo vedete che già già solo avendo importato bootstrap sono cambiate delle cose il font è cambiato gli spazi sono cambiati ho dovuto diminuire lo zoom perché anche la dimensione dei font sono cambiati questo solo importando il CSS perché vuol dire che bootstrap per esempio definisce qualcosa body che prima non era definito definisce qualcosa su h1 diverso perché ha cambiato il font eccetera quindi già solo importandolo poi per bootstrap cosa ci serve ci serve anche importare del javascript che al momento possiamo importare in fondo al body non ci serve un granché ma importiamolo così abbiamo un progetto bootstrap al momento non ci serve un granché ma abbiamo un progetto bootstrap completo e quindi aggiorniamo di nuovo ma non ci cambia niente a questo punto cosa vogliamo vogliamo dare un po' di dobbiamo aggiungere se prendiamo lo starter template vedete alcuni tag che sono richiesti quindi questi queste prime righe che possiamo mettere qui dove abbiamo scritto metadati richiesti questi sono richiesti questi sono bene metterli anche senza bootstrap ma in bootstrap sono particolarmente obbligatori poi dice importate bootstrap e poi il titolo ma il titolo ce l'abbiamo qua e salviamo e qui spiega anche cosa sono queste cose che abbiamo aggiunto e se vogliamo possiamo anche aggiungere altri campi meta per esempio potremmo mettere un campo meta name description queste sono tutte cose da html non c'entrano ovviamente con bootstrap e come content esattamente come questo viewport content possiamo mettere esami perché si occupa degli esami ovviamente se aggiorniamo non cambia niente perché questo è tutto nel led che non ha nessun effetto sull'aspetto grafico se non l'importazione del CSS ecco notate che noi abbiamo importato bootstrap e dopo abbiamo importato il nostro questo perché perché io qui magari vorrò sovrascrivere qualcosa di bootstrap e allora mettendolo dopo ci permette di sovrascrivere le definizioni date da bootstrap se le avessimo messo prima bootstrap avrebbe sovrascritto le nostre quindi noi mettiamo dopo perché vogliamo personalizzare eventualmente qualcosa in bootstrap che perché magari ci serve aggiungere del margine aggiungere dello spazio fare qualcosa quindi sovrascrivere certe definizioni eventualmente di bootstrap quindi se dobbiamo farlo dobbiamo metterlo sotto l'import di bootstrap allora abbiamo detto possiamo vederlo anche da qui layout abbiamo detto che in bootstrap tutto deve essere un container ci sono anche gli esempi fate vedere se c'è arrivare a un esempio più completo e dai dove sarà va bene ecco qua vedete tutto deve essere un container all'interno del container ci deve essere una row e all'interno della row ci deve essere delle colonne queste 12 colonne che sono definite anche qui se volete non solo col numero ma anche con delle proprietà sm md lg che stanno alla parte responsive quindi questo lg si applica solo se la dimensione massima del container è 960 pixel se è più piccolo è 960 scusate se è più grande si applica questo extra large e così via sempre su 12 colonne e poi qua ci sono un po' di esempi di come si possono equilibrare oppure si può usare col se non ci interessa una distinzione vogliamo avere una distribuzione dello spazio quindi tutto deve essere un container quindi innanzitutto main class uguale container e aggiorniamo vedete già cosa è successo è stato messo centrato perché il container applica uno stile CSS su main applica uno stile CSS che dice che la dimensione massima del container è 720 pixel e che ha un padding right di 15 left di 15 e un margin right left automatico e quindi cerca di metterlo centrato esiste poi un container che si chiama container fluid sempre dalla documentazione io la salto ma è scritta qui container fluid che ha una dimensione al 100% quindi container ha una dimensione bloccata in questo caso centrata sulla pagina 720 pixel se vogliamo un container fluido che occupi tutto lo spazio potremmo usare container fluid se noi usiamo container fluid e aggiorniamo vedete che la tabella ritorna dov'era perché in realtà questo main adesso sta occupando tutto lo spazio a sua disposizione mentre prima era centrato al centro ora abbiamo detto che bootstrap richiede dopo un container una riga e all'interno della riga le colonne quindi ci dato che non abbiamo un elemento semantico a cui applicare una riga perché noi abbiamo solo diciamo abbiamo una riga col p e una riga con la tabella vogliamo avere ma che dentro la riga poi ci vogliono le colonne per specificare com'è questa riga dobbiamo introdurre dei div perché tanto non abbiamo un elemento semantico per agganciarci questa riga quindi facciamo un div che avrà solo un unico scopo di rispettare quello che bootstrap vuole quindi di avere una classe che è riga e all'interno di questo div spostiamo il p di prima questo p a sua volta è un p ci serve non vogliamo metterlo in un lato quindi possiamo applicare una classe semplicemente col che dice occupa tutte le 12 occupa tutto lo spazio che puoi non farti problemi e di nuovo se aggiorniamo vediamo che non cambia niente perché non abbiamo effettivamente cambiato granché ora abbiamo un container abbiamo una riga abbiamo una colonna e abbiamo un'altra riga tra la nostra tabella di nuovo la nostra tabella dovrà essere inserita dentro un div per la riga come prima quindi spostiamo la tabella all'interno del div perché perché nella tabella ci metteremo adesso la classe che rappresenta la colonna allora che colonna allora noi potremmo dire col così sta larga su tutto ma noi potremmo dire per esempio che la vorremmo quando è scusate fatemi tornare qui su grid e su questa tabella potremmo dire che noi vorremmo la tabella a tutto schermo quando quando la la pagina è piccola ma quando la pagina diventa molto molto grossa magari la vorremmo quindi da lg in su quindi da 960 pixel in su la vorremmo magari centrata no non la vorremmo su 12 colonne magari la vorremmo solo su 6 e quindi applichiamo questo concetto un po' di responsiva anche già se vogliamo quindi prima battuta noi potremmo scrivere semplicemente col o col 12 che è la stessa cosa ma per dire così siamo su tutte le 12 colonne però potremmo scrivere che quando è large la vogliamo mettere solo su 6 colonne quindi metà dello spazio per esempio e proviamo cosa succede proviamo ad aggiornare allora vedete intanto cosa è successo fatemi togliere questo con col 12 vedete cosa è successo con col 12 che è diverso da col su queste col ok che in realtà è uguale a col in questo caso col occupa tutto lo spazio che può col 12 col e col 12 quando non ci sono altre definizioni sono la stessa cosa cosa fanno mettono la tabella in questo caso che occupi tutto lo spazio quindi la tabella vedete si è allargata per occupare tutto lo spazio se noi volessimo dire per esempio quando la pagina è davvero tanto grande però adesso capite che se io questa pagina ce l'ho più grande questa diventa una tabellona enorme con tanto spazio quindi diventa anche magari difficile da leggere allora quello che potrei dire è quando diventa troppo grande lo schermo quindi col lg quindi quando lo schermo diventa più grande la finestra diventa più grande di 960 pixel lo voglio mettere su 6 colonne invece che su 12 quindi la voglio rimpicciolire e allora per esempio se io adesso aggiorno vedete in questa dimensione rimane così come era prima ma se io aumento lo spazio a un certo punto ecco devo lasciare ok vedete a un certo punto tra l'altro questo col 12 mi fa sparire la colonna azione quindi ho dimenticato un qualcosa da qualche parte ma a un certo punto vedete mi mi diventa più piccola e di nuovo viene messa su 6 colonne invece che su 12 quindi abbiamo applicato un po' di questo responsive all'uno all'altro poi abbiamo una tabella vediamo bootstrap ci permette di per esempio dare uno stile alla tabella ce la fa diventare nera ci può farla diventare così possiamo anche scegliere dello stile a riga alterne e ci dà anche poi l'esempio di come farlo quindi scegliamone una per esempio scegliamo una delle prime vediamo quella dove c'è un light una cosa così dove c'è magari c'è proprio una testazione di questo tipo e poi le altre tabelle normali e qui c'è un esempio allora cosa facciamo dobbiamo dare inizio tutta la tabella alla classe table quindi qui andiamo a scrivere table e al tead dobbiamo dare la classe ecco vedete così appliciamo bootstrap tead in questo caso applichiamo light che è questa versione più chiara e e basta perché poi vedete tb e tbody non hanno proprietà praticamente non hanno classi applicate quindi salviamo e proviamo ad aggiornare di nuovo e vedete che la tabella ha già cambiato aspetto perché è stato applicato tutto lo stile di bootstrap poi perché questo non mi fa vedere action vorrei capirlo potrebbe essere dovuto lo zoom sì in effetti sì non dovrebbe diciamo che dovrebbe essere resistente bootstrap rispetto allo zoom a quanto pare non così tanto però sì in questo caso è dovuto allo zoom però vedete appunto che io fino a una certa dimensione sto vedete che io se lo stringo lui mi mantiene tutto va a capo quando deve andare a capo se io allargo invece me la fa diventare me la lascia da 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 12 e la farà ritornare dove era su 6 colonne però fatemi rimetterlo zoom e perdonate se abbiamo un po' di problemi così si vede un po' meglio ok cosa possiamo fare beh i bottoni sono un po' bruttini così vediamo se bootstrap ha dei bottoni fatti un po' meglio abbiamo visto già di sì button potremmo per esempio mettere quei bottoni visto che sono bottoni per cancellare potremmo mettere questi rossi questi rossi danger e dice così button class btn btn danger quindi qua sul td mettiamo no scusate su button mettiamo class btn danger a tutti e tre ed ecco qua che è cambiato il tipo di bottone poi l'altra cosa che potremmo fare come esempio è adesso abbiamo questa tabella che quando è grossa la pagina sta piccolina no noi invece vorremmo mantenerla sta piccolina va bene ma sta anche a lato e allora l'altra cosa che potremmo fare è dire possiamo metterla centrata e allora bootstrap ha un modo per potremmo ragionare sui margini per metterla centrata bootstrap ha un modo per modificare i margini molto più facilmente a una classe e quindi qui potremmo dire m margin x qualunque tipo di margine top bottom tutti i tipi di margine meno auto questo imposta i margini di questo elemento a margin automatico essenzialmente tutti i margini automatici dove x sta per tutti e se noi aggiorniamo vedete che con margine automatico come vi ho visto prima ce la mette centrata all'interno della pagina poi a me questo non piace tanto mettiamola 8 magari 8 sta un po' meglio ecco mi sembrava molto schiacciata l'ultimissima cosa che possiamo fare è magari migliorare un pochino questo titolo questo header e per esempio possiamo applicare la navbar se volessimo dov'è eccola qua questa navbar che fa molte cose c'è anche l'esempio per il campo di ricerca per il drop down eccetera eccetera a noi serve una navbar abbastanza facile quindi ci basta praticamente queste due righe perché abbiamo solo un titolo e quindi nel header andiamo a mettere questa navbar chiudiamo nav perché non lo copia da tutta e questo qui mettiamolo come titolo qua dentro i miei esami e se aggiorniamo almeno così abbiamo un qualcosa abbiamo un titolino così eccetera poi se questo grigio non ci piacesse noi potremmo per esempio usare in realtà anche tutto questo poi lo vediamo cosa fa fatemelo togliere lo potete vedere cosa fa serve per renderlo responsive anche alla navbar oppure bloccata all'interno della pagina in modo che il resto della pagina scorra ma la navbar no e questo indica il navbar light indica che il colore deve essere pronto il colore del testo deve essere di primo piano deve essere adatto a uno sfondo chiaro e questo indica che lo sfondo deve essere chiaro deve essere grigio ma sempre secondo la documentazione di bootstrap e per esempio noi potremmo mettere background potremmo cambiare potremmo mettere dark che diventerebbe nero invece di grigio scuro invece che chiaro oppure primary che diventerebbe blu per esempio e poi sul blu però dato che è blu un colore scuro dobbiamo mettere navbar dark perché la navbar diventa scura se no diventa nero su blu e non si legge niente e qui avremo per esempio una navbar che può essere bianca che può essere blu con un pezzo bianco e poi vorrendo potremmo prendere questo p e poi finiamo qui potremmo prendere questo p o questo questo classe in realtà e aggiungere qui una un'altra classe che chiamiamola space e qui andare a definire appunto space come margin top un ram per esempio per aggiungere un po' di spazio tra la navbar e il resto di quello che è contenuto qui sotto vedete senza questo in CSS i commenti si fanno così come in i commenti in multiriga senza questo vedete che sta attaccata il tutto sta attaccato a navbar se vogliamo metterci un po' di spazio possiamo definirlo nel CSS che vogliamo noi così ci dà un po' di spazio ok allora siamo in ritardo di 4 minuti però abbiamo visto una panoramica di tutto lunedì il laboratorio sarà su su bootstrap su CSS su HTML su queste cose quindi avrete un'ora e mezza per giocare con queste cose io vi carico come solito questi esempi su su GitHub nel repository che ho creato ieri che si chiama wick03 in maniera analoga a quello di wick02 vi carico anche se volete un altro file un index3 completo diciamo una cosa così magari anche con un po' di stile sul footer così avete qualche elemento in più un esempio in più intanto ci vuole lo finisco diciamo così finisco questo aggiungendogli il footer e qualche commento qua e là ok io fermo la registrazione se avete domande nel frattempo potete scrivere pure in chat così adesso rispondiamo altrimenti vi auguro poi un buon appetito e ci vediamo noi giovedì prossimo e invece voi lunedì con lunedì ci sarà il laboratorio è un po' di stile che so' di stile qui so' di stile